Bella a tutti ragazzi, giusto che oggi è la prima volta che porto Swapping Dogs, cioè l'ho comprato oggi, quindi non sono molto bravo a giocare, guarda sono scarso, avete visto raga, quindi non so giocare, comunque vi volevo dire solo questo Prima di cominciare questo video mi raccomando vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale perché siamo quasi ai 1610 iscritti, dai raga ci sta, mi raccomando è 1650, esce una nuova canzone Mi raccomando raga ci sta, mi raccomando raga ora sto andando col motore non lo so dove E lo sto registrando alle 7, il tempo di editarlo E raga sto andando bene Cioè ho fatto degli allenamenti per... Vabbè vado a film Adesso mi sa che devo fare il combattimento? Raga leggetelo ho scritto Sì, potete leggere bene Allora, io sono questo Raga Quello che sto parlando, ma è questo il mio amico Raga, io salto Che non mi interessa Dove che va, dove andare, a che Raga, dovrei collegare il controllo E che scarico Ok Riprendi Vabbè la che ci devo ancora abituare Scusa, ma non puoi guidare tu Ah ok Ce l'ho fatta raga, ce l'ho fatta Perché non so i tasti Cioè sto giocando senza sapere i tasti Quindi sto spingendo a cavolo Scusate Non ci sto giocando bene Sto giocando